Bene, bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale, tvradicale.it Cominciamo oggi, domenica 2 ottobre 2011, le nostre trasmissioni in diretta e siamo quasi puntuali, diciamo che non siamo soliti ad essere puntuali, oggi siamo quasi puntuali ma la faccio veramente breve e passo la parola al nostro direttore Gianni Coracione il quale aprirà appunto le trasmissioni con la sua conspetta rubrica Il punto di Gianni Coracione A te la linea Gianni Allora un saluto a tutti quanti coloro che ci seguono in diretta e anche coloro appunto che poi dopo nell'on demand seguiranno poi dopo dal nostro sito inregistrata diciamo e in questo piccolo spazio volevo come sempre suscitare qualche riflessione partendo appunto da alcuni avvenimenti che io prendo sempre dalla cronaca perché secondo me la cronaca spesso è termometro e indicatore di alcune cose importanti che poi confluiscono nelle grandi tematiche radicali sono degli indicatori così spassi lungo il territorio, in Italia e anche fuori che secondo me sono importanti perché e poi peraltro anche abbastanza presenti nei giornali e quindi vanno secondo me presi e analizzati un pochino a volte danno appunto degli spunti di riflessione interessanti in questo caso una notizia da cui volevo partire e commentare con voi è abbastanza diffusa, io l'ho presa dal giornalettismo che è un quotidiano online e riguarda una storia di malasanità lo spunto diciamo l'antefatto se così vogliamo dire è un dialogo che è stato intercettato a seguito di una indagine che sta facendo la magistratura per altre cose, per altri motivi tra appunto degli operatori di una clinica possiamo dire il nome perché sta appunto anche su questo articolo una clinica Latteri di Palermo, tra i loro collaboratori volevo giusto appunto leggervi qualche cosa per poi far appunto partire quello che volevo dirvi vi leggo l'incipit dell'articolo una brutta storia di malasanità, un'inchiesta che risarà il 2009 ricostruita oggi dall'edizione parliirmitana di La Repubblica diciamo riprende giornalettismo questa edizione della Repubblica il titolo appunto è Perché spendere ed ecco subito un brano di intercettazione in un dialogo appunto tra questi operatori sanitari Perché dobbiamo spendere soldi? esclamò la dottoressa Maria Teresa Latteri nel suo ufficio della clinica palermitana Latteri parlando ai suoi collaboratori di nuovo ecco ancora il virgolettato Allora non hai capito taglio accorto davanti alle proteste dei suoi interlocutori che la prassi che tu fai costa alla clinica 250 euro e quello mi dà 100 euro finite le virgolette la prassi in questione era la somministrazione del TAD disintossicante generalmente dato ai malati di tumore dopo la chemioterapia il quello era l'assessore regionale alla sanità Massimo Russo che aveva contenuto il rimborso di 100 euro asseduta per i pazienti in dei service la dottoressa naturalmente non sapeva che nel suo ufficio via Cordoba su ordine del sostituto procuratore Amelia Luise che stava indagando su una presunta truffa al sistema sanitario ai danni dei malati di cancro i carabinieri del Nasse avevano piazzato una microspia allora si tratta del settembre 2009 due mesi dopo il decreto taglia di imborsi della regione poco dopo i carabinieri del Nasse verificarono le cartelle cliniche dei pazienti della clinica accertarono che il TAD veniva somministrato ai pazienti ricoverati anche in regime di dei hospital ma non a quelli in dei service è stata intercettata anche una telefonata tra un medico e un paziente quest'ultimo accusava evidenti malesseri e disse che il TAD non gli veniva più somministrato e almeno in un caso la procura è dovuta intervenire per impedire conseguenze gravi come nel caso di una paziente alla quale non era stata somministrata l'albumina siccome per dire afferma la dottoressa Federica Latteri in un dialogo con Maria Teresa Latteri registrato nell'agosto 2009 questa sta facendo albumina io non gli faccio altri 10 giorni di albumina che si spendono un putiferio di soldi a matula penso che sia una parola dialettale che indica inutilmente e la sua interlocutrice risponde no infatti loro sperano che io muoia che muoia cioè loro sperano che muoia loro sarebbero i parenti e l'altra io magari scrivo in cartella che rifiutano di fare qualsiasi procedura e terapia allora praticamente qui mi sembra che la questione sia abbastanza chiara un discorso da due operatori di questa clinica sanitaria che stanno opinando sull'opportunità o meno economicamente parlando di dare questo farmaco per disintossicare un paziente evidentemente in uno stato abbastanza avanzato di una terapia per tumore il quale pare secondo loro che abbia poche speranze di vita e pare addirittura che gli stessi parenti secondo loro stessero aspettando che questa persona passasse tra virgolette al miglior vita insomma questo è uno spaccato di vita grazie a queste intercettazioni che secondo me potrebbe stimolare un trattato di sociologia a parte la questione strettamente penale che è senz'altro macroscopica che è pesantissima poi non so quali fatti specie potranno essere evidenziate a parte la considerazione della vita della gente quello che io volevo sottolineare è che in questa intercettazione che rileva appunto questo episodio in modo casuale assolutamente casuale mentre si sta indagando per un'altra cosa esce fuori quella che è poi una pratica che noi radicali spesso abbiamo sottolineato inascoltati come sempre che in pratica poi la pratica della eutanasia non è una pratica proibita è una pratica che nelle strutture nelle strutture nostre ospedaliere o cliniche o quello che sia con la connivenza degli operatori sanitari e di medici spesso anche pagando un sovrapprezzo di fatto viene praticata in questo caso la cosa è ancora più grave perché addirittura l'iniziativa non l'ha presa il paziente direttamente non l'ha chiesta quasi gli stanno praticando una eutanasia non richiesta ed è veramente macroscopico ma certo fa pensare questo caso messo a confronto con le varie invettive di coloro che difendono la vita a tutti i costi non la dignità della vita paventandola e anzi praticamente supportando le loro tesi accusando coloro che sostengono la necessità dell'eutanasia di una legalizzazione dell'eutanasia come quasi dei propinatori del diritto all'omicidio o qualcosa del genere e che praticamente di fatto è tutto assolutamente già libero è un discorso che rientra ecco perché vi dico che spesso la cronaca dei piccoli casi poi riporta delle tematiche importanti che noi radicali spesso percorriamo è un discorso proibizionista che ancora una volta che ancora una volta in Italia si lancia contro certe prassi con dichiarazioni di tipo moralistico moralisticheggiante di proibizioni per delle cose per delle attività che sono attualmente libere che sono attualmente libere anche se illegali e allora è chiaro che la riflessione e la considerazione finale sul proibizionismo in generale ma soprattutto sul diritto di essere liberi non può prescindere dal fatto che si tratta appunto di prassi che già esistono ma che si vogliono assolutamente ignorare è un discorso che ovviamente rientra nel filone dell'antiproibizionismo ma anche della dignità della vita è un discorso non tanto distante dal proibizionismo sulla droga ma come tanti altri casi appunto di dichiarazioni che sono assolutamente fuori dal mondo come fuori dal mondo spesso è il ceto politico la classe più o meno influenzata da ambienti cattolici un fuori dal mondo rispetto a quella che è la realtà la realtà vissuta della gente comune tanto che sarebbe da chiedersi se qualcuno di costoro che propugnano questo diritto la vita a tutti i costi fino a che magari dopo una sofferenza infame e mortificante poi la gente non muoia in modo tra virgolette naturale se questa gente veramente abbia mai avuto cognizione di quello che è una realtà ospedaliera la realtà che le persone comuni vivono quotidianamente se abbiano mai avuto un parente da visitare un parente che sta male molto male io spesso da persone che si richiamano a questo tipo di ideologia moralistica e proibizionistica in casi drammatici di persone che conoscono ho sentito dire che augurerebbero appunto una morte quanto prima il netto contrasto poi voglio dire è anche contro l'accanimento terapeutico il netto contrasto con quelle che sono le cose che poi dicono una teoria appunto una prassi anzi di proselitismo con il doppio binario cioè io impongo o voglio imporre a tutti quello che io stesso non farei spero che questa cosa abbia in qualche modo possa simulare una certa discussione anche all'interno della chat in questo momento spero di aver fatto un servizio anche appunto alla tematica antiproibizionista radicale e anche alla tematica che si richiamano che radicali si richiamano per una vita degna vi ringrazio e vi rimando alle prossime trasmissioni di libro radicale grazie